Ci troviamo sul campo di gioco dell'Acquaviva di Teramo, un impianto che si è aggiudicato in concessione sulla calcio Bonolis Teramo. Siamo con il presidente Massimo D'Aprile per cercare di capire quali sono i progetti della Bonolis per questo impianto. Gli spogliatoi verranno totalmente risistemati in quanto praticamente ovviamente come avete visto sono degli spogliatoi diciamo fatiscenti, verranno adeguati in base alle normative CONI verranno ricavati quattro spogliatoi, ovviamente la sala massaggi, lo spogliatoio arbitri e poi praticamente qui disporremo anche la sede sociale. In quest'area qui accanto dove in ogni caso è nata inizialmente per svolgere attività al baseball verrà fatto un campo da calcetto misura 20x40 che sarà un campo d'appoggio fondamentale all'interno della nostra attività e anche successivamente può avere anche un'altra utilità e poi praticamente il campo verrà totalmente messo in manutenzione straordinaria in quanto è un campo che ha bisogno di essere ripettinato, ricaricato e quant'altro verrà fatto tutto impianto di sorveglianza, impianto fotovoltaico praticamente sul tetto degli spogliatoi e di fronte verrà fatta una tribuna da 300 posti divisi in due blocchi da 150. Questo è un impianto che negli ultimi tempi ha avuto una funzione molto importante anche per altre società perché Teramo sappiamo una grave carenza di impianti di gioco. Per le società che ne hanno finora soffrito cambierà qualcosa? Assolutamente no, anche perché la Bonolis è una SD, quindi come le altre SD che sono all'interno di questa struttura quindi conosciamo benissimo quelle che sono le problematiche. Quest'anno il primo pensiero che abbiamo avuto è per le società che già disponevano dell'impianto quindi per la Teramo Calcio, Piano della Lenta, Atletico Teramo, Teramo Stazione, non so se dimentico qualcuno quindi praticamente la Bonolis non usufruirà di questo impianto e lascerà praticamente le ore di attività intatte così come erano gli anni passati proprio per non andare a creare nessun tipo di problema. Poi praticamente da aprile del prossimo anno cominceranno i lavori perché oggi è impossibile svolgere lavori il che vuol dire che l'impianto deve essere chiuso, quindi cagionare delle problematiche a chi ne sta usufruendo e poi praticamente negli anni futuri questo arco di tempo di un anno permetterà principalmente al Teramo perché poi gli orari in comune sono quelli 15-18 con il Teramo di potersi organizzare. Noi saremo a disposizione dicendo anche quali sono gli impianti di cui noi usufruiamo oggi che ovviamente verranno lasciati, però in questo momento diciamo che le previsioni sono buone in quanto praticamente abbiamo già delle richieste da parte della società e sembra che già la Teramo Calcio abbia ridimensionato tantissimo l'utilizzo di questo impianto passando praticamente un utilizzo solo per il calcio femminile.